Le opere dei giorni, una nuova trasmissione del nuovo palinsesto di Unica TV. Inauguriamo questo nuovo appuntamento settimanale con un parterre di tutto rispetto, perché abbiamo ospiti per parlare di politica e di amministrazione della città, ma non solo, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni. Buongiorno e grazie per l'invito. Grazie per aver accettato. Marco Calvetti, opinionista del Quotidiano La Provincia, editorialista di lungo corso con uno sguardo non certo banale sulla città e sul suo territorio. Grazie Stefano. E infine Lorenzo Bonini, giornalista sempre della provincia, del Quotidiano La Provincia, che ci aiuterà nel corso di questo dibattito ad affrontare e sviscerare i temi, che non saranno i temi che contraddistinguono magari le polemichette che ogni giorno, ogni settimana si sviluppano al canton di Bal, che è il luogo dove i vecchiesi si trovano per discutere, ma invece sono i temi un po' più sostanziali di questa vicenda amministrativa. Iniziamo con la politica e vediamo la prima scheda introduttiva. Con soli 31 voti di distacco su Peppino Ciresa, candidato del centrodestra, il 5 ottobre 2020 Mauro Gattinoni viene eletto al ballottaggio sindaco di Lecco, ribaltando il risultato del primo turno con un distacco talmente esiguo da spingere gli avversari a presentare ricorso al Tar. Verrà respinto e resterà, almeno fino ad oggi, l'atto più concreto di opposizione nei confronti del sindaco dalla coalizione di centrodestra. Da allora Gattinoni deve fronteggiare le stoccate di Corrado Valsecchi, leader di Appello per Lecco, che lo aveva sostenuto al secondo turno, pur scegliendo di non entrare in maggioranza. Uno stilicidio di interrogazioni e richieste. Non c'è seduta nella quale Valsecchi non attacchi la maggioranza, colpevole di aver messo nel cassetto le scelte di dieci anni di amministrazione ebrivio, a partire dal tentativo, naufragato, di acquistare l'ex sede della Banca Popolare di Lecco per trasferire il municipio. E oltre a Valsecchi, Gattinoni deve tenere a bada il fronte interno dei consiglieri Clara Fusi e Giovanni Tagliaferri, usciti dal PD e ora nel gruppo misto per alcuni, destinato a crescere. Alle elezioni mancano tre anni. Questo era il punto politico, abbiamo un po' abbondato perché in realtà mancano due anni e qualche mese alle elezioni, però ci siamo un po' persi perché si è votato nel 2020 e poi la scadenza è stata prorogata per il Covid. Detto questo, caro sindaco, il quadro è realistico? Sì, un po' sovraesposto per qualche soggetto, ma direi assolutamente coerente nella cronaca. In che senso sovraesposto, Mauro? Beh, nel senso che per come funziona l'amministrazione c'è una maggioranza e una minoranza. La minoranza ha tutti gli strumenti, come quelli che avete citato, per pungolare chi amministra, poi chi gli esercita a modo suo ovviamente la sua discrezione nel poterlo fare. Vero è che comunque ormai siamo a metà mandato, quindi è anche opportuno fare magari un punto della situazione. E dal mio punto di vista, mentre affermo con assoluta serenità quello che probabilmente mai è avvenuto nella storia del Comune di Lecco, cioè che una giunta vada in continuità senza rimpasti di metà mandato, senza correzioni di tiro, dico anche che nel fronte della maggioranza la creazione di un gruppo misto è stato un forte dispiacere, perché sia Chiara Fusi sia Giovanni Tagliaferri hanno dato un contributo importante nelle fasi elettorali. La loro posizione di afferenza alla maggioranza, così si sono definiti, pur dal gruppo misto, pone secondo me in maniera molto opportuna degli elementi di elettricità che tutte le volte vanno valutati. Vero è che poi la votazione si fa con i numeri e i numeri comunque ce li abbiamo per andare avanti, quindi queste sono sfumature in un dibattito politico, credo che faccia bene anche alla città. Beh Marco, colgo questa citazione dal sindaco, in effetti non ho mai visto un'amministrazione che non avesse un pungolo interno in questi ultimi anni, anzi c'è sempre stata una componente all'interno della maggioranza, se non in dissidio, insomma. La cosiddetta affronta. Affronta, ecco. Detto questo, la valutazione che abbiamo fatto a politica, realistica e appunto a tuo giudizio ha le gambe questa giunta per arrivare a fine mandato? Primo dato, anzitutto ti ringrazio perché sono due anni almeno che non stavo così vicino al sindaco. Siamo felici di ospitarvi. Sono a disposizione di tutti i cittadini, la porta è aperta. Sono a contatto di gomito. Per quanto riguarda invece l'osservazione, anche polemica abbastanza, di Mauro Gattinoni sulla questione della maggioranza e minoranza, voglio solo registrare due dati. Il primo, non ho mai visto, caro sindaco, un tuo rammarico o una dichiarazione forte di intenti precisi di trasparenza sulla questione di appello per l'ecco. Credo che quando si fa la premessa che al valottaggio si è vinto con 31 voti di differenza, sa benissimo che determinante è stato appello per l'ecco che vi ha appoggiato al valottaggio. Ora, quando un gruppo così determinante, in una democrazia malata come la nostra, dove votano meno del 50% delle persone, io credo che occorra ascoltare con un certo riguardo, visto che sono stati protagonisti. Il secondo dato è vero, la defezione del consigliere Fusi e del consigliere Tagliaferri. Aggiungiamoci pure anche la defezione di Francesca Bonacina, presidente del Consiglio, che l'abbiamo chiamata a fronda, mi ha chiesto Stefano, che è di derivazione soprattutto democristiana, quando si votava o non si votava, poi generalmente si votava per un ministero, quando non lo tenevi, dicevi un accordo, ricordo una catena, che era in una minoranza assoluta, e hanno detto ti diamo però una banca, ma qui non c'è niente da distribuire. Ecco, voglio chiedere al sindaco, questo quadro non lo fa sentire almeno politicamente inquieto? No, nel senso che credo che il merito del secondo turno, più che di appello per l'eco, sia stato sicuramente della defezione del centrodestra. Gli sono mancati voti oggettivi al centrodestra, quindi questo lo dice la matematica. Circa 800, se non ricorda male. Io ho dovuto recuperare 2.000 voti di scarto in 15 giorni, ovviamente quelle sono state le cifre. Peraltro la posizione di appello per l'eco, immediatamente dopo, quindi quando ci sono state le elezioni provinciali, è stata quella di approggiare il candidato centrodestra. Quindi è chiaro che un comportamento così ondivago è ovviamente improprio, in una coalizione che invece ha della stabilità e della continuità e di una visione coerente, il suo punto di forza. Per quanto riguarda Francesca Bonacina, sicuramente è stata una perdita in termini di autorevolezza, nella prima fase, perché ciò è avvenuto dopo il primo anno di governo, di mandato. Teniamo presente che però questi tipi di rimpasti, penso anche ad un Antonio Rossi del centrodestra, che è venuto meno per una serie di motivi, di incarichi più prestigiosi, e quindi la comunità che è rappresentata dal Consiglio Comunale che si riunisce ha avuto degli avvicinamenti naturali, chi per motivi politici, chi per motivi anche di carriera politica, pensiamo a Zapperini nel centrodestra. Quindi noi abbiamo davvero una dinamica molto attiva e questo secondo me, ripeto, è solo una ricchezza. Beh, il sindaco è un corridore e tira dritto, diciamocelo, però al netto di questo io penso che Lorenzo Bolini sappia trovare una sintesi di queste posizioni. Non l'abbiamo evitato per domande comode, questo lo sapeva di già, caro sindaco. Il poliziotto buono... No, scherzi a parte, il sindaco ha assolutamente ragione quando dice che non è un tema di numeri, nel senso che si è passati da un rapporto di 21 a 12 e uno di 19 a 14, da maggioranza opposizione in Consiglio. Quindi non è che le uscite abbiano condizionato, possano condizionare significativamente l'attività dell'amministrazione. Però c'è un tema che pongo al sindaco ed è questo. Tutti i nomi che abbiamo citato, Buonacina, Tagliaferri e Fusi, si sono in qualche modo staccati dalla corsa amministrativa del sindaco di fronte a dei temi concreti, quindi non soltanto da un punto di vista personale. I temi concreti sono stati, ad esempio, il ritiro di quello che era il progetto del nuovo comune in via Marco D'Oggiono per Francesca Bonacina, il tema dell'addizionale IRPF in aumento per, ad esempio, per Fusi e Tagliaferri. C'è anche un tema che ha portato molto scontento in quell'ambito che è tutto il dibattito che c'è stato sui finanziamenti delle scuole paritarie. Cioè, dove voglio arrivare? Ci sono dei temi che queste scelte politiche le hanno consegnato in qualche misura e che rischiano magari di, e questa è la domanda, di farle magari perdere dei pezzi di città che l'avevano votata nel corso della campagna elettorale, che invece, insomma, sono sintomi queste scollature o sono alto? In questi tre anni abbiamo affrontato dei temi difficilissimi, epocali, e per ogni, ne citerò alcuni, e per ciascuno di questi lo scopo di una maggioranza è quello di analizzare, confrontarsi e poi decidere in maniera unitaria. Chi non sta alle regole della maggioranza ne è al di fuori. Faccio un esempio. Quanto può avere costato a una sinistra l'attuale accordo delle paritarie, che è il più caro che sia mai stato sottoscritto? Tema molto attuale. È chiaro che c'è un dibattito interno, ma quando si va in aula si vota. Quanto è costato ambientalmente il nuovo piano cave? O la politica del teleriscardamento, che vedete cosa sta combinando, o cosa ha combinato a Valmadrera. È chiaro che quando c'è dialettica interna, per esempio, non nego che sulla riduzione della dizionaria IRPEF, questa che è stata poi ritoccata quest'anno, che era una misura che andava a impattare pochissimo sulle tasche dei singoli cittadini, ma molto nell'aggregato, perché parliamo di 120 mila euro. 120 mila euro in un anno ne fai di cose. Puoi incrementare alcuni servizi. Ecco, c'è sempre un dibattito all'interno della maggioranza. La politica però è il momento della sintesi. E chi ha maturità è in grado di accettare la sintesi e di portare avanti un discorso comune. Chi a un certo punto ha posizione di arrocco è giusto, secondo me, per motivi di chiarezza. E in questo caso Francesca ne ha dato l'esempio, che lascia spazio ad altri. Marco, cosa dici di questa analisi? No, condivido solo in parte. Cioè, ripeto, io che al solito mi occupo della politica, no? Secondo le categorie tradizionali, prima le ideologie, le ideali, le idee, che non ci sono più. Che non ci sono più. Adesso non ho questo da dire. Ho fatto una domanda quasi sentimentale. Ho detto al sindaco, si sente un po' inquieto per la situazione? Io gli ho detto no, assolutamente no. Io dovessi dare un suggerimento invece oggettivo. Sai che siamo posizioni sul piano personale. Divergenti. Sì, ma il suo piano personale figuriamoci se abbiamo partecipato, io ho partecipato alla sua campagna elettorale, andando avendo degli incontri con tutto il suo gruppo, incontri anche molto stimolanti dal punto di vista politico, lo può confermare tranquillamente, pubblici, pubblici, non iscritti in un'osteria. Ecco, io le do questo suggerimento. Ogni venerdì c'è l'appuntamento della newsletter del sindaco ai lettori. Per rappresentare il mio stato d'animo, che le trasferisco, la intitolerei caos calmo. Nel senso, lei ci mette la calma, ci mette la pacatezza del suo stile e dei numeri, come diceva giustamente Lorenzo Bonini, che ci sono, perché se fosse lì un mail, io ho fatto il sindaco e sono caduto per un voto, per dire, tanta grazia, cara grazia. Però la situazione politica va valutata non solo in base ai numeri, c'è una città che è rappresentata dalla maggioranza risicata all'interno della città, complessivamente, e allora alcune scelte io le avrei condivise, avrei trasformato questo nucleo che c'è intorno al sindaco Gatinoni in una stanza, non dei bottoni, ma in una stanza aperta a tutti i contributi. È vero che il sindaco dice, è vero che il sindaco dice, la mia porta è sempre aperta, ecco, aperta la città, se io vengo a trovarla, sono sicuro che mi riceve con l'aperitivo anche. Volevo solo, accolgo come sempre i consigli che mi vengono da chi ha più esperienza, preciso però che su alcuni passaggi di rimenti, il dialogo con le opposizioni, con quelle che si dimostrano, essere capaci di dialogare, c'è stato. Faccio alcuni esempi di importanza per la città. In tutte le fasi e anche le prossime fasi che avranno a che fare con il Bione, per dire uno che è forse il mio cruccio maggiore che in tre anni, tra le 82 milioni credono di opere pubbliche, cifre mai viste, che andremo a stanziare, che sono stanziate, che sono in fase di esecuzione, il Bione è ancora escluso. Su questo con le minoranze abbiamo dialogato. Sul quarto ponte c'è stata una costruzione assolutamente positiva, tant'è che il Consiglio Comunale dell'Ecco ha votato all'unanimità la quarta corsia. Parliamo di cose vere che non hanno bandiera politica in Consiglio Comunale dell'Ecco, poi se altrove chi fa politica di professione lo fa in altri ambiti, gioca una battaglia di posizione sulla testa del sindaco di l'Ecco, questo siamo capaci tutti di leggere certe dinamiche, però ripeto, sono problemi altrove, io mi devo occupare di fare funzionare la città, di realizzare le cose che ho nel programma e l'accelerata che è stata data, credo in questi due anni è un'accelerata che la città non ha mai vissuto e quest'anno, nel 2024, quando partiranno dopo, se chi ha fatto il sindaco lo sa, dopo due anni di procedura finalmente parte il cantiere, perché a tutti noi piacerebbe che il cantiere partisse domani dopo aver pronunciato il Fiat Lux, ecco non è così, ecco il 2024 secondo me sarà rivelatore fortunatamente nei confronti di tutta la cittadinanza, di quanto lavoro è stato fatto nei primi due anni di mandato. Ecco, la condivisione per la verità il sindaco dice di averla avuta perché qualche suo gruppo ha rinunciato a qualcosa pur di... C'è spazio per un'ultima riflessione prima dello stacco pubblicitario, Lorenzo? La riflessione Stefano che vuole uscire dalla città, visto che parliamo di politica, politica pura, provo a declinarla in questo senso, tra poco ci saranno, insomma dopo le amministrative ci saranno anche le provinciali, sappiamo sono elezioni di secondo turno, ma daranno un senso anche alla politica territoriale della provincia di Lecco, allora la domanda è questa, non le sembra che rispetto alla stagione in cui il Comune di Lecco ha governato tutta una serie di partite molto difficili, molto complesse sulle partecipate, tirandosi dietro non dico tutta la provincia perché sappiamo che il Meratese è una storia a sé, ma sicuramente una larga parte dell'Interland e non per aderenze politiche, non erano tutti di centrosinistra, ma per, come dire, capacità del Comune di fare da locomotive e da capofiliera, non ha l'impressione che il Comune di Lecco faccia fatica in questa fase a cogliere questa opportunità, che ci siano partite che il Comune fa fatica a vedere, a gestire con alle spalle alleati i famosi tavoli, altri comuni. Oltre i punti, la politica oltre i punti. Ad esempio quale partite? No, le faccio un esempio. Su cui il Comune farebbe fatica a gestire le spese. Le faccio un esempio. Mi ha fatto impressione vedere il discorso del Quattro Ponte, capisco che era anche un momento di protesta, però l'idea che 4-5 sindaci un po' col cappotto intabarrati, come se fossero appunto dei semplici cittadini per smuovere la situazione e si trovassero lì, mi ha fatto un po' impressione e ho ripensato, ma non perché il Comune di Lecco è in difetto, ma perché in un altro tempo, pensiamo all'Ecco Ballabio, la cosa si risolveva con grandi tavoli, con tutte le istituzioni del territorio presenti. Sì, i sindaci di colore assolutamente diverso, penso io e Dante Di Capitani, per citare gli opposti non solo sulla sponda dell'Adda. Poi c'era Montanelli, c'era il sindaco… C'era l'arco costituzionale quasi. Allora, è chiaro che c'è un bisogno di un territorio e la domanda è chi interpreta questi bisogni di territorio a livello istituzionale, non a livello politico, a livello istituzionale. Noi ci siamo accorti in quel frangente, e dico noi collettivo, noi sindaci, ma per come è venuta avanti la politica, per come la si sta gestendo, ahimè, non solo a livello territoriale, in un senso ampio, a livello superiore, che non sia quella dell'amministrazione del Comune, ecco, tutti questi aspetti creano uno scollamento pazzesco, uno scollamento pazzesco dove ciascuna, in una sorta di battaglia di posizione, dove se vinco io perdi tu e chissà cosa c'è in paglio, perché portare a casa un ponte credo che sia un'operazione win-win da parte di tutti. Dipende dal ponte? Dal momento in cui, ad esempio, la provincia di Lecco ha scelto di farsi carico delle stanze dei comuni, perché in una prima fase era molto defilato, dopo la provincia di Lecco ha scelto di farsi carico delle stanze di tutti i comuni, una volta che è appurato che l'istanza di Lecco era simmetrica a quella di Pescate, allora via via si è creato, si è creato anche un tavolo, un'interlocuzione, che all'inizio era puramente formale e che per diventare sostanziale ha avuto necessità di esplodere in quel 4 di gennaio. che poi ha provocato settimana scorsa la firma di Salvini, altrimenti era da 6 mesi, perché questo abbiamo preso dai vostri organismi di stampa, era da 6 mesi che un besticcio non a livello locale ma tra ANAS e Ministero, in particolar modo in questo caso con la società Milano Cortina, aveva impallato per 6 mesi tutte le opere pubbliche. Opere pubbliche, bene, ci fermiamo un attimo e sarà il prossimo tema, perché la trasmissione si chiama Le opere e i giorni, ora abbiamo affrontato i giorni, poi passiamo alle opere, che è il tema che interessa più ai cittadini forse della politica. Ci vediamo fra un attimo. Seconda parte di questa prima puntata delle opere e i giorni, abbiamo iniziato parlando di politica, ora affrontiamo un tema forse un po' più importante per i cittadini, vediamo la scheda. Non c'è tema che scaldi più i lecchesi della viabilità. Con piglio deciso, Gattinoni e la Giunta hanno cancellato tre semafori in centro città mettendo tre nuove rotonde. Un progetto lasciato nel cassetto per troppo tempo dalla precedente amministrazione. Per alcuni funzionano, per altri no. Tutti concordano nel fatto che, a un anno dalla posa, sarebbe meglio vedere il cemento dei New Jersey. C'è poi la questione dei ponti. La discussa scelta di trasformare il ponte vecchio a senso unico ha sollevato un vespaio. Presto soffocato dalle ben più aspre polemiche istituzionali con la provincia, sul quarto ponte, la bretella di collegamento fra Pescata e il Bione, progettata solo in ingresso, che il sindaco, ormai non solo, vorrebbe trasformare a doppio senso. Ora sembra che le parole debbano finalmente lasciare spazio alle ruspe. I lecchesi per ora si lamentano delle code e delle proposte di trasformare la città in una zona 30, anche se per la verità cambia poco. Benissimo, quindi partiamo sul tema della viabilità. Prendiamola dal fondo, cioè dal quarto ponte che era anche l'ultimo blocco in cui abbiamo discusso prima. Sindaco, questo quarto ponte serve ma due corsie, vero? Questo credo lo vogliono i lecchesi, lo vogliono le imprese, lo vuole la città. Però le ruspe cosa faranno? Sì, anche qui tenete presente che il Comune di Lecco non si è mai opposto al manufatto che verrà realizzato, che ad oggi, mentre parliamo, è un manufatto a due corsie in ingresso in città, una corsia con le auto, l'altra con le biciclette. Questo è quanto è stato progettato da ANAS e quanto è stato finanziato e che nessuno, nessuno, si permette di mettere in discussione. Punto iniziamo. Pescate, Bione. Da Pescate al Bione. Parliamo di un ponte parallelo, quindi un altro manufatto, parallelo al Manzoni, alto presso poco uguale, sarà pitturato di verde, così ci dicono, e arriverà al Bione. Detto questo, che ha il suo iter e la sua storia è lunghissima, quando è capitato a me dover gestire, prendere in mano le carte, e io non sapevo che avesse le due corsie tutte in entrata, mi sono posto il tema di una maggiore funzionalizzazione di quest'opera. Appurato con ANAS che l'impalcato, cioè la struttura portante, i pilastri, le solette, i cimenti armati, sono calcolati addirittura per i trasporti eccezionali, quindi hanno una certa categorizzazione, mi sono posto l'idea, avendo avuto l'approvazione unanime del Consiglio Comunale, di procedere nei confronti di provincia e regione affinché questo progetto venisse riconvertito, togliendo la pista ciclabile, facendola diventare una corsia in uscita da Lecco e in tal senso progettando lo svincolo di Lecco con questa funzionalità. I dialoghi che sono maturati anche in questi ultimi mesi hanno portato e hanno fatto sì che questa richiesta venisse accolta, ovviamente con la necessità di progettare analogo svincolo lato pescato perché nessuno ci aveva pensato. Quindi questo è il punto a cui siamo adesso. Mi sembra una situazione un po' schizofrenica, vogliamo il ponte a doppio senso, il ponte vecchio è il senso unico questo. Mettiamo un po' di ordine Marco, cosa serve ai cittadini? Scusa, i nostri telespettatori, cittadini, primo un dato di base, sappiamo che la viabilità è la strada maestra del consenso. Nasce lì, in una città che funziona senza traffico eccetera, ha maggior ragione. Una città che vuole crescere, noi parliamo spesso in modo di visione oltre i punti, ma dobbiamo andarci oltre i punti ad entrare, non soltanto in termini immaginifici. Va bene? Sindaco, allora dico una cosa, io scrivo ogni giorno, scrivo, faccio da una vita intera. Voglio dare un suggerimento proprio di da scalico in massima umiltà. Perché si è perso molto tempo? Caro Stefano, perché? Perché non si è, non si si è resi conto, non avendo sufficiente esperienza, non il sindaco, incomplessivamente ho detto, non il sindaco latino in sé, che le opere che passano attraverso l'ANAS, i finanziamenti li decide l'ANAS. Adesso il sindaco ha giustamente ricordato che è finanziata una manufatto, quello è, e non possiamo giocare di fantasia, il dato è quello. E ricordiamo che l'ANAS è tremendamente spalagnina, anche rispetto all'ecco, anche nel passato. Ricordo un esempio, tanto per non fare discorsi accademici, la strada del 36, che colpi di tutti, no ma scusa Stefano, 10 sindaci parlamentari, no? E 30 anni per fare la strada. L'ANAS finanziava a spizziche bocconi, col contagocce, l'ANAS, signor Catinoni, e do questo esempio può portare l'autorizzo, non ho il copyright, costata il primo chilometro un miliardo, l'ultimo chilometro dieci miliardi. Decideva sempre l'ANAS. La politica metteva d'accordo i comuni che si scontravano ogni giorno, da Colico a Mandello a Lecco e via dicendo, fino verso Milano e poi l'ANAS diceva sì o no, a seconda del potere contrattuale, che aveva la politica allora. Punto. Però prendiamo atto che oggi l'ANAS recita un ruolo un po' diverso, perché abbiamo accorto tutti con grande favore, la notizia è che le opere sono state, perlomeno anche il Quarto Ponte, ma altre, sono state sottratte dalla società in Milano-Cortina e sono finite in mano all'ANAS. Quindi vabbè, come cambia il tempo vorrei dire. Detto questo, Lorenzo, col vostro quotidiano avete seguito passo dopo passo tutte le scelte viabilistiche, con tanto di polemiche. Io dico una cosa, all'inizio forse qualcuno ci è rimasto male per le rotonde, ma adesso a me personalmente sembra che il traffico funzioni, non so come la vedi tu e cosa ne pensi. Chiediamo al Sindaco così almeno, quagliamo questo ragionamento in una domanda. Allora, secondo me, sono d'accordo con te, via Digione è stata nettamente migliorativa, l'allargamento, l'accesso per via Mendola, anche Piazza Manzoni, la desemaforizzazione verso via Leonardo da Vinci è stata sicuramente migliorativa. La domanda che mi pongo io e che pongo al Sindaco è tutto considerato, quindi la situazione molto precaria di una città che morfologicamente fa fatica ad avere ampi sbocchi e vie di fuga in caso di code e situazioni viabilistiche estreme. Questo Ponte Vecchio, siamo così sicuri di tenerlo come adesso a perché la mia sensazione è che la gente non abbia imparato molto bene le fasce orarie. Io per primo, quando scendo da via Mendola, non mi ricordo mai se si può uscire o entrare o quant'altro, però qual è il punto? Che poi ci si infila nel budello di via Bezzecca e lì sono dolori a riconquistare il Ponte Nuovo. Quindi la domanda è, è così escluso l'idea di tornare a un vecchio regime sul tema del Ponte Vecchio? Almeno in attesa dei nuovi sviluppi. Noi dove fare le cose che funzionano e se funzionano o no lo dice la differenza tra un prima e un dopo. Com'era la situazione prima, cosa abbiamo cambiato se questo cambiamento ha portato a un miglioramento o un peggioramento. Nel caso del traffico, oltre alla scelta dei geometri, degli architetti, degli ingegneri che hanno misurato e quantificato del traffico, quindi quante macchine, dove provengono, dove vanno, una certa componente ce l'ha anche l'abitudine dell'autista, dell'automobilista e questa chiaramente necessita di un po' più di tempo per allinearsi alle nuove variazioni. Morale, funzionano le misure che abbiamo messo in atto e sono anche facili da memorizzare. Il Ponte Vecchio è aperto la mattina a entrare in città e aperto il pomeriggio a uscire in città, quindi dalla città. E questo perché? Perché il traffico in entrata, essendo capologo attrattivo, è maggiore la mattina e chi va, ritorna ovviamente nei propri paesi, lo usa appunto in uscita. Il tema da rotonde. Il tema da rotonde è, sapete cosa costa una rotonda? Una rotonda. No, dimmi, dici. Una rotonda, dipende dal diametro, da 250 ai 300 mila euro l'una. Tre rotonde, di già un milione di euro. Quindi è il motivo per cui noi abbiamo scelto innanzitutto di mettere lo provvisorio, perché non ci saremmo mai permessi di spendere una milionata su funzioni che poi non avrebbero performato. E qui vengo dietro anche all'osservazione di Bonini. Le prime due rotonde, Digione e Piazza Manzoni, che tra l'altro sistemeremo questa primavera, perché interrati i tubi del telerescaldamento, assestato il terreno, perché servono sei mesi di assestamento, perché tutte le buche che vedete adesso sono quelle provvisorie, dovute proprio all'assestamento del telerescaldamento, allora verranno ridisegnate. E sono le due che funzionano bene. L'altra, quella del teatro, funziona meno bene dalle altre, per un motivo molto semplice, è stretta. La rotonda più è larga, più il circuito, il carosello, è veloce, quindi più smista il traffico. Ora, la nostra versione definitiva prevede ovviamente un cerchio più largo, la chiusura dei due sottopassi, quindi soldi importanti. Posso dire finalmente. Sì, perché sono anche scomodi, anche dal punto di vista della sicurezza, sono ormai inutili, così come un allargamento lato teatro e lato tribunale, dove adesso c'è il cantiere. Ed è il motivo per cui ancora oggi ce la dovremo sopportare un po' provvisoria, mentre le altre due le sistemeremo entro settembre. E sono io il primo a dire che il colpo d'occhio di questi oggettini bianchi e rossi è un po' stufato, ma è per primo. E non c'è il tristezza appena inizia in città. Scusa Stefano, sai che vantaggio abbiamo? Ha detto che non gli piacciono, abbiamo un sindaco armocromista. Va di moda. Beh, le avremmo fatte blu celesti, se fossero stati... Siamo fatte blu celesti. Ecco, questo per dire che la sperimentazione nel caso della viabilità non è un andare a tentativi, vuol dire misurare ciò che funziona. E nel caso, per esempio, della rotonda del teatro, lì abbiamo preso le misure che effettivamente, come per altri progettisti ce l'hanno detto, i raggi dovevano essere diversi. Questo è quanto. Quindi, e chiudo con una battuta, quando tutti noi siamo in coda per strada, ricordiamoci che non siamo nel traffico, ma siamo il traffico. Vuol dire che la soluzione del traffico può avvenire anche cambiando un po' le abitudini, nel limite del possibile. Marco, tu sei un automobilista esperto, ma forse un pedone ancora più esperto, giusto? No, io sono un automobilista che le assicurazioni si rifiutavano di staccarmi la polizza, perché sono, rispetto ai chilometri, l'automobilista più incidentato d'Italia. Tolto quello. Non sono un esperto della materia, non la seguo, eccetera. Però voglio fare due osservazioni generali rapidissime. La sperimentazione è la parola d'ordine in questi casi, tutte le città del mondo. La sperimentazione si fa, si prova, si toglie, no? E si prova, l'efficienza si fa stessa. Qual è il rischio? Che tipicamente italiano, non mi riferisco all'ECO, ma siccome il sindaco è anche italiano, che il provvisorio divenga permanente. No, questo no. Abbiamo risentito, Marco, a settembre, entro settembre, ho capito male? Noi abbiamo il cronoprogramma con Regione Lombardia che prevede entro settembre. Capito il senso dell'osservazione? No, assolutamente. Condivide, penso, no? In pieno. No, però non c'è questo rischio per la città di Lecco. No, no, chiaro. È benissimo. Altri saranno i cantieri, questo ve lo dico invece, di quest'estate, dove il teleriscaldamento attraverserà proprio il budello di Piazza Sassi, l'avanti a Comune, via Do... Lì è chiaro che dovremmo fare a scuole chiuse, dovremmo farlo cambiando termini. Di notte, magari. Di notte, anche qua, ci sono dei problemi contro, non tanto dal punto di vista dei risorsi, ma del disturbo che dai e della sicurezza degli operatori. Diciamo che quest'anno, il 24, in altri quadranti della città, quindi quello più centrale, via Volta, eccetera, lì ci saranno... Impattante. Sarà l'anno impattante, quello del 24. Allora, ultimissima considerazione prima di chiudere l'ultimo giro, credo che tutto sommato, se ci siamo fatti un po' per via Mendola, i lavori di teleriscaldamento siano proceduti tutto sommato senza, finora, particolari e gravi disagi. Una provocazione però, caro sindaco, a me sta a cuore il Ponte Vecchio, è un monumento del Trecento. Ora, io capisco che è necessario rivedere, ma, insomma, bisogna fare una riflessione un po' più ampia su quello che, mi perdoni, è il monumento della nostra città. Abbiamo scoperto un archeologo. Ma il suo mestiere, volete fare il giornalista, eccolo, che si è disvelato alla città. Colgo la provocazione e la sposo dal punto di vista dello scenario. È chiaro che è prematuro chiudere il Ponte Vecchio, per essere molto chiari. Ed è vero che è l'unico bene trecentesco di pregio vero della nostra città. Sarebbe uno spreco se lo usassimo ancora come artere viare nel 2024 o più avanti. Io dico però che non è questo il tema, nel senso che oggi la città non funzionerebbe senza Ponte Vecchio. Si incolonerebbe tutta Pescate, si incolonerebbe Val Madrera. Oggi non possiamo permetterci. Dobbiamo aspettare magari la messa in funzione del nuovo quarto ponte. O parliamo di 5-10 anni, perché con tutto rispetto per le Olimpiadi che sono tra due anni, cioè oggi, tra due anni iniziano le Olimpiadi. Ecco, vi dico che non c'è un permesso a costruire, non c'è un atto di depositato in città, non c'è un cantiere aperto. Quindi Olimpiadi sì, Olimpiadi no, queste infrastrutture servono. Servono non per le gare di scio della Valtellina, ma servono per le nostre imprese, per il distretto industriale metalmeccanico, che ha bisogno di infrastrutture, per tutta l'abrianza del mobile arredo. Serve per ciascuno di noi che deve spostarsi. E però quel ponte del 300. Quindi, grazie alle Olimpiadi, a questo grandissimo pretesto per fare nuove infrastrutture, magari avessimo investito anche un po' di più sulla ferrovia per alleggerire anche i 95.000 veicoli che ogni giorno attraversano la 36, siamo la seconda strada più trafficata in Lombardia dopo la A4. E ci passa in mezzo l'eco. E capite quindi, quando c'è un incidente su quella strada, il rigurgito di traffico che intasa la città è paralizzante. Scusa Stefano, sa il sindaco diceva Stefano, l'eco è attraversata? E figuriamoci che nel dibattito dei tempi, un dibattito non filologico, ma sostanziale, ci fu anche in Parlamento Bonini, così forse la parte un po' mia, no? Sì, sì, assolutamente. L'esperienza ce l'hai solo tu. Ecco, ci fu un dibattito enorme, anche nella posizione della legge, tra definirla superamento di l'eco e attraversamento, nel senso che se l'attraversi la vivi e vivi l'eco, se la superi l'eco la cancelli nella carta geografica e si passa a mezzo e si va in Valtellina. Questo dato qua, che è filologico, lessicale, è fondamentale per le scelte, perché se lui racconta dei dati che non raccoglierebbe come capoluogo se non ci fosse questa scelta di allora, prima ha detto il sindaco, le Olimpiadi sono un pretesto, diciamola meglio, scusami, è un'occasione formidabile per mettere insieme anche il trasporto su ferro e quello su gomma, questa è l'occasione, e magari quello navigabile, basta, butto lì. Forse è il libro dei sogni. Ci fermiamo per un attimo, perché dobbiamo prendere fiato e parlare, visto che siamo entrati nel tema delle opere, vabbè, facciamo le opere quelle serie. Vediamo un attimo di stacco e poi vediamo la prossima scheda, perché introduciamo un altro tema importante, che è quello del PNRR. Ben ritrovati con quest'ultima slot di le opere ai giorni, vediamo la scheda, parliamo appunto di opere del PNRR. Dopo anni di vacche magre, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha portato milioni di euro nelle casse dei comuni. Quale migliore occasione per portare a termine i buoni propositi rimasti fermi per anni? Recuperare i magazzini della piccola, destinata nelle intenzioni a diventare un nuovo rione della città, ristrutturare il lungo lago. Le polemiche però si sprecano. Alle soluzioni del progetto vincitore, al concorso di idee promosso per dare un nuovo volto al lungo lago, Gattino ne ha preferito scelte più misurate e realizzabili per tempi e costi. L'esatto contrario del futuro che la maggioranza sognava per il municipio, quando decise di non completare il progetto in via Marco Dogiono lasciato dal predecessore Virginio Brivio. Caro sindaco, o pensi troppo in grande, o pensi troppo in piccolo. Ci perdonerà il sindaco questa battuta, però insomma, quando sei seduto su una sedia ti tirano le pietre, te le tirano comunque. Allora, venendo a noi, facciamo il punto sul PNRR, quindi il progetto sostanziale è quello della piccola e quello del lungo lago. In realtà c'è dentro un pezzo di Villa Manzoni e il parco Unis Kennedy è già finito. Diciamo, parliamo di 20 milioni di euro per la prima tranche che riguardava la rigenerazione urbana. Abbiamo 8 più 5, 13 milioni di euro per il TPL e quindi la rigenerazione dei bus con pullman elettrici. Abbiamo 5 milioni di euro per la parte sociale, quindi residenze per anziani, residenze per disabili, per le stazioni di posta, che forse voi non sapete ma poi vi dico cosa sono, e ci costano un milione di euro e sono delle cose importantissime. Questo solo per dire 750 mila euro per digitalizzare i servizi del Comune, questo per dire solo alcune macro voci. Il PNR non è la lotteria dei comuni e non è neanche la manna che cade dal cielo a caso. PNR vuol dire avere dei progetti validi che il Ministero, quindi lo Stato, ha valutato in una graduatoria nazionale e ha giudicato meritori alcuni progetti che abbiamo presentato nella loro capacità di migliorare gli effetti di benessere sociale. Faccio un esempio, una palestra da un milione di euro. Questo indice di vulnerabilità sociale, che quindi dirime la classifica nazionale dei progetti, serve per dire se questo milione di euro speso per fare una palestra a Lecco rispetto allo stesso milione di euro per fare una stessa palestra a Scampia, dove c'è il miglioramento sociale migliore. E questo entra in una graduatoria e da qui deriva anche un po' la protesta dei sindaci del Nord, lo dico con franchezza, per cui in taluni casi l'80%, in altri casi oltre il 65-70% delle risorse sono andate al centro-sud, ma benvenga, voglio dire, se servisse per colmare davvero il gap. Fatto sta che quindi le restante residue esigue risorse che sono venute al centro-nord, ecco noi ne abbiamo intercettate parecchie. Citavo prima, noi abbiamo 70 cantieri nel triennale opere pubbliche per un valore complessivo di 82 milioni di euro. Opere grandi e opere piccole? Sì, ci sono le opere grandi, come in Lungolago, da 10 milioni di euro. Ecco, sul Lungolago, perché c'è stato un po' di dibattito, anche abbastanza, cioè qualcuno sognava appunto, in realtà qualcuno anche ha detto sarà una sorta di restyling, non sarà la passeggiata del futuro, non si pente di questo certo. No, perché uno giustamente non è che deve fare passo secondo la gamba. No, noi abbiamo ereditato un'idea di concorso che prevedeva una piscina galleggiante, una gradinata che scendeva sul lago, tutto il collegamento ciclabile, che aveva un valore di circa 34 milioni di euro. Noi ne avevamo 10, non 34 milioni. Se avessi 34 milioni farei domani mattina il bione, nuovo. Però ne avevamo 10. Con 10 milioni le scelte erano due. O 10 milioni fai un pezzo di Lungolago, secondo quel progetto, una piazza sull'acqua e arrivi bene o male alla statua di San Nicolò e poi da lì in su verso il Tamore resta tutto come adesso, quindi radici affioranti, parapetti storti, eccetera. Oppure, ed è stata questa la nostra scelta, crei un nastro di continuità sicuro dall'imbarcadero fino al Tamoil, crei la ciclabile che diventa di interesse nazionale perché poi immaginiamola con la tratta che va fino all'Orsa e da qui fino a Badia con la legge olimpica. Allora, creare quel nastro di fatto è come aver creato la spina dorsale con i primi 10 milioni di euro su cui poi si possono anche innestare delle altre funzioni. Una, per esempio, è già in programma, che è una piattaforma d'accesso a lago per gli sport, il kitesurf, il windsurf, l'immersione, che sarà una specie di pedano, un molo, chiamiamolo così, sotto il Tamoil, quindi in quel tratto di scogliera che va dal Tamoil fino alle scalette che emergono dalla ciclabile. Ecco quindi che i valori sono quelli, tenete presente che in due anni i costi e i prezzi sono saliti esponenzialmente, quindi le cose che da poter fare quelle sono e quelle faremo a partire dal prossimo mese di marzo, perché il cantiere partirà a marzo. Marco, bisognava essere più audaci secondo te? No, secondo me, a parte che complimenti, fai l'archeologo sul ponte e poi fai l'archeologo di Sanremo che domani sera chiude il festival e citi il famoso Antoine che diceva, l'ho citato io l'altro giorno, taxi, taxi, mio amore finisce in Europa del genere e invece ti tirano le pietre, ma le pietre, caro sindaco, non sono rivolte contro i rei in questo momento, siamo molto obiettivi, qualche sassolino però ce lo togliamo anche dalla scarpa. Ecco, avverte una certa dicotomia che caratterizza un po' lo stile, la cifra del suo mandato, nel senso si parte con visioni di prospettiva estremamente stimolanti e poi si fanno i conti, i conti, non i conti, veramente bilanciano la mano e si ripiega. Waterfront sembrava la soluzione più fantascientifica del nord Italia su acqua con archistano, personaggi formidabili, venuti qua c'era una gara e poi adesso lei stesso ha detto che ha dovuto ridimensionare il progetto e passiamo da una ipotesi addirittura di 38 milioni di euro a 10 milioni di euro, qual è la disposizione? E ha riscritto un'altra cosa. Allora approfitto, entro sull'argomento e poi così lancio la domanda tua Stefano, stesso argomento per essere in analogia quando si parla del municipio, cioè concepito, cancellando l'ipotesi dei suoi predecessori della sua stessa collocazione politica, via di Gione, tutto il lavoro fatto e pensa alla regia di Versailles o di Caserta, in piazza Garibaldi, salta questa operazione perché non sostiene economica e adesso cosa facciamo? Abbiamo lì questo stabile, vergognoso dalla ex Deutsche Bank che sembra un immobile cimiteriale, non vorrei, passiamo per Lecco, la piazza peggiore di Lecco, quella che ha evocato come luogo di Cantù di Bal, Stefano, nell'apertura e siamo a due passi dai crisantemi, d'estate e d'inverno. Questa è una provocazione ma è la sacrosante verità, è il sentire comune, come si usa dire, delle ricchesi. Una provocazione però, prima di concedere la risposta al sindaco, forse quella era la soluzione per sistemare sia il municipio che la piazza? Sicuramente sì, parto da quest'ultima considerazione, io sono quello che ci ha creduto e ci ha provato davvero nel sistemare il municipio, nel cercare una soluzione per la Deutsche Bank e cercare una soluzione per la piazza. Questo è il dato di fatto che deve restare. Al di là di tante idee, di tante parole, io ci ho messo i soldi, la faccia, la testa, ho coinvolto il Politecnico nelle studi di fattibilità, i risultati sono quelli che conosciamo e che cioè era dal punto di vista economico equivalente in termini di euro a metro quadro investire in Marco Dogiono e investire in Deutsche Bank. Questo è il dato di fatto, certificato dal Politecnico. Per quanto riguarda il Lungolago, Marco ha ragione, quel progetto che aveva una funzione perché era finalizzato a vincere un concorso di idee e quando tu devi vincere un concorso metti in bella mostra quanto più le cose più affascinanti e capaci di catturare il giudizio della giuria. Io mi sono trovato un progetto scelto, un progettista assegnatario e ho dovuto procedere. Tenete presente che la dotazione che mi era stata lasciata era di euro 40.000. Da 40.000 arrivare a 10 milioni di euro, da 40.000 euro che era il monte premi del vincitore del concorso, arrivare a 10 milioni di euro e questo è il lavoro che è stato fatto da questa amministrazione. Che poi quel progetto fosse, probabilmente sarà anche il progetto migliore ma impraticabile, allora ritorno a dire quello che dicevo prima, facciamo le cose che servono, quelle che funzionano. Il Lungolago così come verrà realizzato a partire appunto dal prossimo marzo avrà uno sviluppo, avrà una funzionalità e poi vedremo se arriveranno altri soldi per completare quel progettone che sicuramente era affascinante ma probabilmente il consegno di poi è assolutamente sovradimensionato ma neppure credo all'epoca l'amministrazione precedente aveva mai immaginato che potesse arrivare a quella cifra. Io ti dico, lavoriamo, lavoriamo e poi portare a casa dei risultati. Lorenzo? Due questioni. La prima sul nuovo municipio, solo per chiedere ai nostri telespettatori, mi correga il sindaco, la studio del Politecnico però non ha mai detto il prezzo vero di quanto sarebbe costato rifare senza demolirlo via Marco Togiono. Cioè io dico come l'ho capita io quel giorno, poi mi correga lei. Il Comune ha fatto questo ragionamento, esisteva uno studio di fattibilità del 2019 che diceva che rifare ex novo via Marco Togiono, quindi l'ex Politecnico per intenderci costava 14 milioni e demolirlo e costruire qualcosa di nuovo costava sostanzialmente la stessa cifra. Il Comune ha chiesto al Politecnico cosa costasse nel 2022 demolire e ricostruire l'ex Politecnico, è saltata fuori una cifra di 34 milioni che era 10-15 milioni sotto l'ex storage bank e allora ha dedotto, diciamo per omologazione dei casi, che la cifra fosse uguale. E poi diciamo che il Politecnico non ha mai certificato l'aumento dei costi sul rifacimento senza batterlo dell'ex Politecnico. Allora, il rifacimento senza batterlo non è stato contemplato in quella perizia per una motiva molto semplice, che noi dovevamo confrontare oggetti simili. In questo modo mi riferisco in particolare alla performance energetica. Quindi volevamo il massimo delle performance energetiche, che vuol dire il minimo di spesa corrente e per la soluzione Deutsche Bank e per la soluzione Marco Dogiono. E questa, a detta del Politecnico, si sarebbe potuta raggiungere solo con un involucro edilizio, una struttura completamente differente e quindi il tema... Oggi la scelta su più sedi diciamo che è peggiore. Questa sicuramente è la peggiore in assoluto, quindi è chiaro che è distrusa. Però avete risolto il problema da cui è nato tutto, cioè la sicurezza dei lavoratori. Noi avevamo un esposto da parte dei lavoratori. Ma l'anagrafe è sicura adesso? No, l'anagrafe è stata rinforzata, abbiamo tolto i puntelli. No, no, abbiamo tolto, se andate giù a vedere, ci sono tutti gli sportelli funzionanti dove si possono ricevere le persone, lo stesso valga, avendo spostato l'ufficio ambiente, i servizi sociali alle meridiane, compreso l'ufficio della scuola, eccetera. Quindi vuol dire che l'urgenza, cioè la messa in sicurezza dei lavoratori, dei 300 dipendenti del comune e dei cittadini, è essenziale. Ora, che sia disfunzionale, che siano dislocati sui cinque luoghi, sono il primo a conoscerlo. E' anche vero che la soluzione verrà data all'interno del PGT. La discussione del PGT prevede appunto il cosiddetto piano dei servizi, cioè dove collocare, in questo caso il municipio, ospedali, scuole, linee, dei pullman, eccetera, eccetera, lì il dibattito farà emergere dove sarà collocato il futuro municipio. Benissimo, io direi che abbiamo un flash per chiudere, però facciamo un giro un po' diverso. Marco, Lorenzo e chiude il sindaco. Cosa dite? Bene, velocissimo. Sindaco, lei ha un tono da sempre, io la conosco, assertivo, nel senso che crede talmente nelle sue opinioni, eccetera, che dà a volte l'impressione di non tener conto delle dinamiche, dei pensieri volatili e meno. Però il suo stile, io posso criticarlo quando voglio, ma lo conosciamo, la stima può restare di fondo, non cambia niente. Voglio chiedere, quando escono le classifiche nazionali, solo le 24 ore, e la vedono non con la maglia nera, però un po' grigia? Lei la vede grigia, la vita, l'amministrazione, oppure continua a vedere il verde dell'uomo assertivo? Io credo che le persone si accorgeranno dei lavori fatti quando le opere partono. Purtroppo abbiamo avuto due anni di incubazione e questi due anni, dal punto di vista del cittadino, è sembrato quasi che nulla accadesse. E quindi probabilmente quel distacco, poi non so neanche io come sono fatti questi sondaggi, chi vanno a intervistare, pare che intervistino 500 persone al telefono, quindi io non so se telefonano a casa mia, anche il metodo, e valgono per tutti, però diciamo che stando a quella classifica io posso ampiamente migliorare. Ecco, bravissimo. Lorenzo? Gli uso i miei 30 secondi in un modo diverso, cioè per dire il sindaco di ringrazio per aver tenuto a battesimo questa joint venture di carta stampata a televisione. Siete un plotone d'esecuzione. Ci auguriamo di non averla messa sotto pressione troppo, ma direi che insomma non c'è il pericolo. Forse l'unica domanda, l'unica domanda che ci resta, il 2026 è vicino, su carta stampata l'avevo già fatta. Cosa fa Gattinoni? Gattinoni a questo punto con tutti questi progetti è ancora in scena. Io ho dato una disponibilità ampia per la mia città perché questa è stata una scelta di vita che ho preso nel 2019 e io la confermo. Poi ci sono tutti i passaggi politici che venivano richiamati a livello di gruppo, di coalizione e soprattutto credo che solo il parere dei cittadini e quanto la cittadinanza potrà esprimere in quel frangente, quindi tra due anni, potrà poi dirimere o decidere cosa ne sarà del mio futuro politico. Io per adesso mi limito ad amministrare una città, cercare di farla funzionare bene e questo credo che sia nell'interesse di tutti. Siamo in chiusura, Marco. Sì, no, uno pensa al dopo. A me viene da ridere quando guardo Mauro Gattinoni e usciamo dai ruoli istituzionali perché lui è uno che diceva, beh, cosa faccio? Lui è uno che ha girato il mondo, tutti i paesi eccetera. Io, qualche orizzonte ce l'ho, al massimo arrivo a Liva Bella. Quindi c'è una bella differenza. Buona fortuna e buon lavoro. Grazie Stefano. Grazie a tutti voi, grazie al Sinaco del tempo che ci ha dedicato. Speriamo di non avervi annoiato, anzi di aver messo un po' di pepe nel dibattito cittadino. Grazie ancora, alla prossima puntata di Le Opere e i giorni. Grazie. 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 Grazie.